Un magazzino così vuoto in 30 anni di attività difficilmente lo ricordano al Banco Alimentare del Piemonte. Nella sede centrale di Moncalieri, alle porte di Torino, i vuoti sugli scaffali sono evidenti, ma sono i numeri a fotografare una situazione drammatica che ricade inevitabilmente sulle persone indigenti. Nei primi quattro mesi del 2024 le entrate di prodotti alimentari nel magazzino sono diminuite del 47% rispetto allo stesso periodo del 2023, passando da 2.592 a 1.370 tonnellate, una riduzione drastica causata da diverse problematiche. Tutto questo deriva principalmente da due fattori. Il primo da un ritardo di carattere burocratico per cui su fondi già stanziati e deliberati sia dall'Europa che dal governo italiano non sono partite o hanno forti ritardi le gare di assegnazione dei prodotti. Il secondo è certamente dovuto anche all'aumento dei prezzi dalle materie prime, ma per questo noi prevediamo una riduzione costante nei prossimi mesi da 6 chili pro capita ad assistito a circa 3 chili medi. È una situazione che oramai perdura da molto tempo, troppo tempo e che certamente va recuperata. Ad oggi, tanto per dare un numero statistico, noi abbiamo qualcosa come 230 bilici di forniture nel 2023 da gennaio a settembre. La previsione di quest'anno è certamente molto molto ridotta. Se gira intorno ai 140-150 bilici totali nello stesso periodo. I dati della distribuzione sono in netto calo, ma meno preoccupanti rispetto a quelli delle entrate in magazzino, proprio perché vengono utilizzate tutte le scorte disponibili. A pagare il conto di questa situazione drammatica sono però le persone in difficoltà, che ricevono le buste della spesa più leggere del solito, per di più con una qualità inferiore degli alimenti, dalle oltre 560 strutture caritative convenzionate col banco. Noi assistiamo circa oltre 800 persone e la povertà della borsa alimentare purtroppo è un fatto che mette in difficoltà noi e gli indigenti perché prendono la borsa che non è più quella che era prima. Pensi un dato, noi fino all'anno scorso prendevamo ogni mese 10, 11, 12 bancali, siamo ridotti adesso a 5 bancali, quindi questo dà la misura della difficoltà. Tutte le settimane abbiamo dei nuclei nuovi che vengono a iscriversi per poter accedere alla borsa, pur una borsa povera. Noi personalmente come associazione abbiamo difficoltà, non abbiamo ad esempio le risorse economiche per comprare un litro di olio d'oliva, quindi la nostra fiducia, la nostra speranza è tutto nel banco alimentare che è un soggetto determinante per queste cose. Il banco alimentare lancia dunque un appello alle istituzioni, ma non solo. Chiediamo certamente al Ministero di velocizzare le procedure per far ripartire le gare di appalto, ma soprattutto facciamo un appello alle tante aziende alimentari del settore in Piemonte che ci aiutino, che ci aiutino in questo periodo molto difficile che durerà certamente alcuni mesi ancora, per garantire un pasto a quei circa 10.000 bambini assistiti grazie al Banco Alimentare che vedranno in questi mesi una possibilità di ottenere di nuovo sulla propria tavola un pasto che prima era assicurato dalla scuola.